Si trova ricoverato in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'artigiano 49enne di Fiorano Serio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro successo poco prima delle 8 di lunedì 7 febbraio a Seriate, in via Cabbertoncina, nella zona industriale vicina a Brusaporto. Il cantiere si trova in un'area appartenente alla Zappettini SRL di Albino, che sta da pochi mesi realizzando un nuovo capannone. L'uomo impegnato sul tetto nella realizzazione di un lucernario, per ragioni ancora da chiarire, precipitava nel vuoto da un'altezza di 8 metri, battendo con violenza sull'asfalto. Sono stati alcuni lavoratori presenti in zona ad allertare i soccorsi. Inviato dal 118, sul posto giungeva un equipaggio medico che provvedeva al trasferimento e ricovero dell'artigiano presso gli ospedali riuniti di Bergamo, dove i sanitari diagnosticavano vari traumi nella parte inferiore del corpo, oltre ad un trauma facciale. Sembra che il 49enne, che proprio questo lunedì aveva ripreso il lavoro dopo un lutto in famiglia, non fosse in possesso dei necessari dispositivi di sicurezza. Sul posto una pattuglia di carabinieri e vigili di seriate, oltre ai tecnici dell'ASL e di Trescore e Balneario, che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente.